Non basta, ti stai bostarando quando ti fai così, ti stai muovendo, ti stai girando, sai? L'anguria, te, la tua moglie. Non anche tu, perché no? Mario, porta qui. Ehi! Don Mario, tu. Che vede? Come è? Ti guarda, 60. Ma il tuo figlio. Marco, capace di nuovo, sei pieno o nuovo. No, non lo sai neanche tu. No, io vado via però, via, via. Ma che c'è buono! Mi piace tutto, mangia. Come fai, Mario, ad abbandonarla qui, questa bestiola? La do a te, io, la do a te. Se riesci a portarla su. Insensibile, sì che riuscite a portarla su, con un po' di buona volontà si riesce tutto. La metti in giardino, la metti. Mi fai un piccolo recente. Salta, vatti là, da quell'acqua, da Marchetta. No, non è vero, non è vero. Non sa, guarda, guarda. No, finché è piccolino, quello portiamo da... No, quello che è grande, dopo lo facciamo le olive. No, lo potremmo dare un olio, lo potremmo dare un olio. E no, lo puoi faremo le vecchie? No, no, due anni al massimo, sono dopo le vecchie. Ma due anni, ma vai! Ma diventa troppo... Stai sciupando? No. Adesso lo tentate, non amare? Voi, tu, domenica. Io no. Voi, mi ha lasciato anche le sciogamane. Ma giusto, se la sciogamane è la mia materassina. Tu hai amare? La pausa, la rengatura? Ma sì, lo capivo. Hai visto le anguglie almeno. Eh, vabbè. Povera, è tutta bagnata, eh, Dio. Ma guarda, questa mattina sei sciogata da sola. Era così bella, era stamattina. Ci vuole la prolunga, no? No, no. La prolunga presa c'era da.